buonasera ben ritrovati amici a questa nuova puntata di terzo tempo dedicata esclusivamente alla four world cup ci siamo inizia il grande caldo e quindi arriviamo anche di conseguenza alle battute finali del grande tornare di calcio 8 organizzato for club e che naturalmente anche quest'estate ci ha accompagnato sui campi di roma sud nella fattispecie soprattutto stella azzurra esports iti ma anche ciriaci siamo via delle battute finali questa settimana sono giocati innanzitutto i quarti di finale allora andiamo a vedere con l'aiuto della grafica quello che è successo nei quarti di finale di champions league nella fattispecie vediamo la vittoria anche un po sorpresa dei tottenham hammers contro il fosburg poi il successo del lecce contro il bologna la vittoria dell'euro e real madrid l'euro bett scusatemi real madrid contro il blisseur e la vittoria del bordeaux contro il toro viola questi risultati di quarti di finale non vi anticipo nulla perché ma forse chi ci segue anzi sicuramente chi ci segue già lo sa si è giocata anche una delle due semifinali l'altra si giocherà domani sera però vi lascio nel frattempo ai video che si riferiscono alle partite che abbiamo appena visto in grafica e quindi nella fattispecie i quattro quarti di finale nell'ordine commentati da michael michael di costa alessandro sticozzi giulio soricelli e poi dulcis in fondo ancora michael di costa più tardi buonasera gentili amici ed amiche un cordiale saluto vi giunge dalla stella azzurra quarti di finale della four world cup 2013 un altro liverpool sulla strada del bordeaux non solo pizza il toro viola liverpool 2 che attaccherà da sinistra verso destra dei vostri teleschermi mentre risponde da destra verso sinistra il bordeaux non solo pizza la rosa gioca anello che a sua volta ha preso la destra attenzione ancora la conclusione da fuori e delle chiaie questa volta è costretto a intervenire primo squillo dell'incontro attenzione a quello che succede all'interno dell'area sembrava andare la rosa con il destro uno schema preso chirico attenzione al tempo di controllare mette in mezzo c'è un fischio e c'è un calcio di rigore sul pallone messo in mezzo da chirico c'è stato un intervento falloso ai danni di un calciatore del bordeaux e allora la formazione maglia bianca un'occasione capitale per sbloccare una gara che si stava facendo complicata momento importante della gara attenzione parte tortori col destro vantaggio del bordeaux che la sblocca dal dischetto grazie al terzo gol consecutivo di loris tortori bordeaux che sembra in controllo della gara gara però dovrebbe aiutare attenzione a tortori si libera il destro di tortori 2 a 0 abbiamo chiamato il gol della sicurezza del bordeaux che arriva ora con il destro di tortori che si gira in un fazzoletto e fa partire una rasoiata che non lascia scampo a delle chiaie raddoppia il bordeaux in chiusura di primo tempo si sta per riprendere a giocare qui alla stella azzurra ribadiamo il parziale dopo i primi 25 minuti vede il bordeaux non solo pizza in vantaggio per due reti a zero si sta per riprendere a giocare qui alla stella azzurra ribadiamo il parziale dopo i primi 25 minuti vede il bordeaux non solo pizza in vantaggio per due reti a zero anello attenzione palla sul destro apre su un compagno che quindi prosegue l'azione offensiva del bordeaux ancora anello poi c'è la conclusione da fuori e c'è il 3 a 0 il 3 a 0 del bordeaux che ora dilaga trovando la terza marcatura nella ripresa aria con la conclusione da fuori area del calciatore in maglia numero 18 ma l'inteso tra la rosa e santi poi c'è forse un tocco di mano che viene giudicato involontario da parte di tortori attenzione limite dell'aria il numero 9 va al destro è un golasso questo trova la tripletta tortori tra le proteste dei calciatori del toro viola realizza un gol da antologia che sicuramente troveremo nella colpa raid della prossima della prossima trasmissione dopo il gol del 4 a 0 anche il suo calciatore più rappresentativo se non che è l'unico che cercava e riusciva attenzione torniamo in cronaca c'è la conclusione da fuori è il quarto gol di tortori 5 a 0 liverpool 2 che quindi incassa la quinta rete con questo destro al volo da parte di tortori che fa poker scorcio finale di match si attende solo in realtà il fischio finale del direttore di gara che arriva adesso vince il bordeaux non solo pizza che schianta per 5 a 0 il toro viola liverpool 2 e vola alle semifinali della forward cup edizione 2013 va beh comunque sia sì qualche protesta loro se ne sono andati dispiace perché alla fine è un torneo serve per divertirsi quindi dispiace però va bene così buonasera dal circolo sportivo sport city bliss euro schalke ed euro bet real madrid si danno battaglia per un posto alle semifinali del four world cup fischia il direttore di gara e si parte bliss euro schalke real madrid euro bet cerca spazio sull'auto di destra prestato da tre giocatori dell'euro bet che non lasciano davvero un centimetro di spazio poi attenzione in qualche modo il numero 9 se ne va l'appoggio ancora la conclusione del numero 11 risponde bene caperchi gianna rilli per la rimessa laterale dell'euro bet con le mani prova l'appoggio per messina passaggio di ritorno ancora cioccari lato corto dell'aria cerca lo spazio per il cross dall'altra parte si era coordinato stornelli risosulta farsi però lascia poi a liquori ancora lui a destra c'è guccini ancora liquori la conclusione recupera il pallone guccini poi addirittura la conclusione aerea che scende ma sistema del cronometro direttore di gara e si parte secondo tempo iniziato adesso ancora in avanti prova messina ad andarsene ancora lui numero 9 fino in fondo poi torna come una furia magnoli mette fuori il pallone ora il numero 11 pallone messo in mezzo per messina che sblocca l'incontro il numero 9 fa valere i suoi metri e la mette alle spalle di urbini 1 a 0 per l'euro bet real madrid allo sport city attenzione al pressing poi messina prova a girarsi ancora messina riesce a servire il numero 18 che cambia gioco dall'altra parte ancora stornelli aggancia bene il pallone serve poi gianna rilli cerca lo spazio per il tiro numero 18 ancora gianna rilli in realtà un appoggio a destra guccini ancora stornelli ancora giannini il cross in mezzo poi rimane lì il pallone allora si porta sul 2 a 0 l'euro bet real madrid con gianna rilli che si fa trovare nel posto giusto al momento giusto per la zampata vincente 2 a 0 quindi per l'euro bet real madrid calcio d'angolo va guccini sul pallone l'appoggio corto per li cuori che si gira bene buono lo schema pallone però esce di poco la sinistra di caperchi arriva adesso il cross in mezzo all'altra parte per guccini che si coordina ma ancora una volta termina fuori la sua conclusione alla caccia di un pareggio sempre più impronosticabile va gavioli cross basso attenzione a salvi però la conclusione il pallone che rimane lì ancora il numero 9 non riesce ad andare in rete poi recupera sterbini che riparte ancora numero 5 se ne va la scivolata di salvi battuto in questo momento il calcio di punizione giannini cambia dall'altra parte per guadagnoli cerca la conclusione al volo ottima la scelta di tempo del numero 21 la sua c'è guerra si preferisce il lancio lungo ancora salvi però ad andarsene a sterbini che davvero stasera è insuperabile e con il suo intervento termina il match l'euro bet real madrid prato in semifinale dopo un secco 2 a 0 primo tempo abbastanza difficile erano messi molto bene in campo con questa mezza punta il centrale basso ci mettevano un po in difficoltà soprattutto a me la centrale basso non riusciva a trovare la posizione però dopo il secondo tempo trovato il primo gol abbiamo sono aperti in poi spazi è stato tutto un po più semplice un pregio la grandissima qualità offensiva sicuramente stiamo facendo bene stiamo segnando tanto e subiamo anche poco difetto una squadra poco cinica ancora queste partite rischi di pagare gli episodi però ci stiamo divertendo stiamo andando un buonissimo torneo ora avremo la semifinale sarà sicuramente contro un grande avversario siamo pronti e proveremo a lottare per vincere buonasera e benvenuti al centro sportivo ciriace in via aurelia antica 529 questa è la forward cup i guardi i quarti di finale delle eliminatorie champions league di fronte lecce e bologna e lecce in tradizionale maglia giallorossa e il bologna nella tradizionale casacca rosso blu direttamente a cercare nel cerchio di centrocampo arretrato mano il secondo che va al tiro col sinistro non male nell'occasione basile che poi sbaglia rinvio attenzione corto e passeri 1 a 0 di passeri rinvio scellerato di basile e passeri col destro non sicuramente il suo piede più forte riesce però a trovare l'angolino 1 a 0 per il lecce buono mioli qua se ne va bene con un bel dribbling su rialduzzi che era caduto nella finta prova bono mioli col sinistro la palla sfila di poco alla sinistra di ventura buona occasione sarà fallo laterale assegnato dall'arbitro rimangono tre giocatori in posizione offensiva del lecce la palla che rimane lì moschiano e la sfera che non è entrata secondo il direttore di cara dalla nostra posizione ci è sembrato però oltre la linea il salvataggio del difensore del bologna l'azione secondo me che parte in questo istante con il lecce che ha trovato il vantaggio nella prima frazione 1 a 0 prova andarsene ancora dall'intervento duro del numero 10 del lecce buono mioli un paio di 1 2 se ne va bene buono mioli viene poi toccato da un avversario il direttore di gara vede parte buono mioli di potenza buono mioli 1 a 1 del bologna 1 a 1 del bologna stavolta è stato sorpreso ventura dalla punizione bassa calciata massillo sta per andare alla battuta ci sono comunque tre giocatori del bologna che sono andati ad affollare l'area di rigore massillo il tiro potente col sinistro la sfera che rimane lì il colpo di testa e la rete la rete trovata da te andreas gran punizione battuta da massillo ci ha messo i pugni ventura sulla ribattuta il colpo di testa a scavalcare con maggiore verve se vorrà raggiungere il gol del pareggio c'è secondo che va al cross direttamente dentro per la rovesciata di moschiano gol fantastico di moschiano che trova il 2 a 2 si coordina sul cross di secondo e di sinistro con la girata al volo la mette all'angolino nulla da fare per basile pareggio straordinario del lecce tra lecce e bologna non sappiamo nemmeno bene dirvi quanto manchi attenzione qua a muraga che va a recuperare una palla muraga 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 palo clamoroso la sfera che rimane lì e l'autogol clamoroso autogol da parte di sidu 3 a 2 del lecce esplode la gioia dei giocatori in maglia giallo rossa subito dopo di simone sidu sfortunatissimo nell'occasione della realizzazione del 3 a 2 attenzione la sfera che rimane lì per il bologna il tiro e la rete la rete il pareggio del bologna disattenzione difensiva del lecce filippo bartomioli bartomioli 3 a 3 stavolta da passere la palla rimane lì bartomioli l'ha recuperata su junco che gli va alla porta difesa d'aventura massillo sta per andare alla battuta col sinistro una rete fantastica di massillo 4 a 3 del bologna 4 a 3 un gol incredibile su punizione proverà a rimetterlo lungo tutti i suoi compagni di squadra sono all'interno dell'area la palla spiove lì e la rete la rete incredibile il gol di danilo urbani 4 a 4 questa partita non vuole finire mai il fallo laterale lungo di secondo massillo con una gran punizione che porta in vantaggio di suoi col 4 a 3 e poi la partita che finisce in questo istante il 4 a 4 proprio 30 secondi fa di urbani che manda le due squadre ai calci di rigore fabio muraga rincorsa lunga e centrale parte muraga col destro e spiazza il nostro viso con un po di fortuna basile parte bartomioli ma col destro bartomioli ventura lo ipnotizza in lecce e in semifinale dell'eliminatore della champions league dove affronterà il tottenham hammers buonasera gentili amici ed amiche un cordiale saluto vi giunge dallo sport city di trigoria dove il mamma che planet volsburg e il tottenham hammers vanno a caccia delle semifinali della four world cup edizione 2013 che diventa per distacco chiaramente il capo cannoniere degli hammers nel frattempo la gara è iniziata ancora giancarlo che alza la testa vede starace tutto solo sulla fascia di destra che serve cotignoli va al destro cotignoli che si perde al lato di un mezzo metro e quindi si perde qualche minuto perché nel frattempo però attenzione perché gli hammers battono subito con ucherani che si gira e col mancino però non riesce a impensierire boni tottenham che manovra il pallone all'altezza della trequarti attenzione ora a ucherani lanciato in profondità in trenare ucherani ucherani sinistro il vantaggio degli hammers al quindicesimo minuto di gioco proprio lui ucherani si infila tra le maglie della difesa del volsburg e tutto solo davanti a boni lo supera col mancino si riprende a giocare allo sport city di trigoria ricordiamo il parziale a sorpresa solo per chi non ha visto la gara che vede il tottenham in vantaggio sul mamma che planet volsburg tottenham che non ha strafatto ma è stato in bene in campo e ha trovato con ucherani un grandissimo gol attenzione ancora gli hammers al destro da parte di pier maria che trova però la risposta pronta di boni corner battuto da piccolo pala sul secondo palo e c'è il gol incredibile il 2 a 0 degli hammers sugli sviluppi del corner battuto da piccolo che disegna una traiettoria che con l'interno del destro trova la testa di un compagno con coordinazione precaria il numero 3 si continua a giocare attenzione alla conclusione di starace vuoto in due tempi riesce a intervenire ma il pallone termina fuori dall'area di rigore di ritornare il pallone non ci riesce riparte starace per il volsburg attenzione il numero 8 apre sulla distra per mazzesi mazzesi palla sul destro di al centro il destro di mazzesi vuoto con i piedi in calcio d'angolo giocano col portiere volante i calciatori del volsburg ma arriva ora il fischio finale del direttore di gara vince il tottenham che sbanca lo sportivo partiti piega 2 a 0 il volsburg e vola in semifinale beh sì oggi avevamo due assenti il portiere soprattutto e anche severini l'altra punta che gioca con me siamo riusciti a portare a casa una vittoria sperando di vincere questo torneo almeno accedere alla finale scorpacciata di gol quindi e scorpacciata di emozioni con queste quattro bellissime partite che hanno riguardato i quarti di finale della champions league della forward cup però come detto questa settimana si è giocata per il momento soltanto una si giocherà la seconda domani le semifinali anche della champions league e coppa forward cup non abbiamo naturalmente i video però possiamo farvi vedere con l'aiuto della grafica quello che è successo nel frattempo con la vittoria del bordeaux contro l'eurobet real madrid e quindi bordeaux che per il secondo anno di fila raggiunge la finale bordeaux non solo pizza che la squadra campione in carica della forward cup e quindi potrà tranquillamente o comunque potrà difendere il titolo conquistato l'anno scorso nella sera del lunedì nell'altra semifinale invece in attesa di sapere quello che succede domani sera tra tottenham e lecce le due squadre che abbiamo visto qualche istante fa nei rispettivi quarti di finale che domani sera daranno vita a questa semifinale in palio c'è naturalmente un posto nella finalissima champions league forward cup di lunedì sera proprio contro il bordeaux non solo pizza però lunedì non soltanto champions protagonista ma anche soprattutto europa league questa settimana si giocavano le due semifinali nell'ordine andiamo a vedere quello che è successo prima in wincon atletico madrid contro manchester ragnatela pub e poi subito a seguire accio team via real contro empoli in entrambi i casi il commento è di cristian vitale a più tardi semifinali forward cup in campo questa sera manchester ragnatela contro wincon atletico madrid qui allo sporzile di tricoria l'ani ha già battuto morezzi potete il tiro attenzione morezzi una serie di finte ancora morezzi il tiro la palla deviata e il vantaggio del manchester morezzi la sblocca lui 1 a 0 c'è stata una deviazione ma il manchester sblocca la gara cross in mezzo alessio vazzana attenzione atletico che scarica il tiro e il palo interno preso dal atletico che scuote scivolare sulla testa dove petrucci va accelerare al 3 contro 2 il tiro e la rete del 2 a 0 non perdona petrucci 2 a 0 manchester spietata la formazione bianco rossa questa sera con una manchester implacabile sotto porta con le rete di morezzi e petrucci lo stesso morezzi che si scadena sulla sinistra a contro due uomini una serie di finte di morezzi mette in mezzo questo pallone arriva il tiro al volo di fattone arriva anche il 3 a 0 spettacolare azione di morezzi sulla sinistra e fattone in sacca il gol del 3 a 0 adesso batte subito intelligentemente morezzi la palla messa in mezzo a grande azione petrucci arriva anche il 4 a 0 e adesso possiamo veramente cominciare a vedere il manchester lunedì in finale fisca l'arbitro inizio di questo secondo tempo qui allo sposti di morezzi va subito alla conclusione palla che termina alta sventagliata in avanti attenzione morezzi è solo morezzi 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 contro salustri è in atterrato morezzi firma tutto l'arbitro quindi annullato il gol di petrucci vacuta e sbaglia morezzi sembra voler tentare la conclusione breve a 3 schierata salustri parte morezzi e la rete splendida del 5 a 0 gran gol di mauro morezzi punizione stupenda 5 a 0 manchester l'atletico che stasera ha provato solo ad avanzare con lanci lunghi quando invece il manchester imposta molto bene con i tre là davanti petrucci cuda e morezzi petrucci arriva anche il sesso gol altra bella azione e 6 a 0 che porta la firma di manuele petrucci placido placido c'è il 3 contro 1 placido serve petrucci petrucci è solo vediamo se servirà placido lo serve placido arriva anche il gol di daniele placido ed è il gol che chiude il match trionfa il manchester che approda alle finali di lunedì allo sport city sta una bella partita loro giovano molto molto maschio però abbiamo retto bene botta e siamo riusciti a fare belle azioni da gol abbiamo capitalizzato abbastanza d'altronde la condizione fisica è quella che è perciò il mister mi concede pochi minuti ma va bene così migliorerà sicuramente per lunedì beh speriamo di sì anche perché quando si arriva in finale poi ci teniamo sicuramente a vincerla e quindi speriamo proprio di sì eccoci qui allo sport city di trigoria in campo villareal ed empoli questa sera in palio la semifinale batte l'empoli l'inizio di questo match tra empoli e villareal qui allo sport city di trigoria spazza via la difesa del villareal che ora va in pressing con trevisani 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 quasi ruba il parone trevisani è solo trevisani il tiro è la grandissima risposta del portiere dell'empoli occasione per il villareal che adesso finisce tra le braccia del portiere del villareal che lancia lungo a cercare trevisani trevisani si libra molto bene del difensore trevisani è solo trevisani trevisani con la testa trevisani 1 a 0 villareal ancora lui trevisani per l'1 a 0 lorenzo trevisani villareal 1 empoli 0 villareal che riparte un lancio trevisani fa buona guardia allarga la grande questo pallone c'è di nuovo un fallo gioco veramente tanto spezzettato calcio di posizione per il villareal c'è solo due uomini in barriera attenzione trevisani si può scatenare parte trevisani e la palla che rimane lì e arriva il 2 a 0 del villareal secondo gol del villareal che raddoppia con marco di loreto villareal 2 empoli 0 trevisani come al solito davanti viene fermato però da uno splendido intervento di hamed che riparte in velocità ancora hamed attenzione superiorità numerica dell'empoli che entra in aria la palla ancora lì per girini la mette in mezzo il tiro e la rete del 2 a 1 riapre il match l'empoli assegno daniele cammarata per l'12 dell'empoli lancio lungo dalle parti dell'empoli che calcia azione ancora viva girini dalla fuori per il tiro la risposta con i pugni del portiere ancora di bilio ancora lui allarga bene il pallone sta giocando veramente bene l'empoli in questa fase va a terra calcio di rigore calcio di rigore per l'empoli tutto pronto per la battura di questo calcio di rigore di mario rete 2 a 2 e arriva il time out sul gol del 2 a 2 segnato da di mario l'empoli riporta in parità questa gara 25 minuti e sapremo chi andrà in finale tra villa real e empoli 2 a 2 al termine della prima frazione faccio lungo la palla ancora viva tre visani la tiene viva la porta è vota il tiro rete 3 a 2 e rodaccio della difesa dell'empoli e viro rete riporta avanti il villa real bisattenzione difensiva pesantissima dell'empoli villa real 3 empoli 2 palla ancora in zona pericolosa per peruzzini che fa un ottimo lavoro si allarga sulla destra peruzzini mette in mezzo a questo pallone 4 a 2 tiro cross che finisce in rete e 4 a 2 villa real ma adesso l'empoli sembra di suonirsi in difesa ancora spazio verrà alla riva la conclusione la risposta attenzione perché c'è ancora l'occasione per il villa real che si porta a 5 quinto gol del villa real con assegno de muro per il 5 a 2 daniele de muro ancora cammarata filtrante girini il tiro di punta 5 a 3 girini accorcia l'empoli riaccende le speranze la formazione bianco blu azione ancora del via real sulla sinistra la palla allargata per lo scatenato trevisani ancora lui trevisani in posizione di tiro e la palla che finisce in rete la deviazione per il 6 a 3 che arriva da parte di gemmellaro il numero 11 del villa real chiude la partita ancora via real trevisani trevisani la rete di trevisani lorenzo trevisani ancora a segno il 7 a 3 del villa real arriva il fischio finale finisce qui il match allo sports city e il villa real che accende in finale mi affronterà lunedì il manchester ragnatela sì certi numeri magari provi tante volte in partita poi non ti riescono invece magari la volta giusta e sono riuscito anche a far gol io sono il più anziano tra virgolette quindi so quello che deve caricare la squadra perché purtroppo la nostra squadra difetta proprio di questo in doppio vantaggio ci addormentiamo e rigorosamente subiamo il pareggio della squadra e allora abbiamo visto con l'aiuto delle immagini quel che è successo nelle due semifinali dell'europa league e adesso andiamo a vederlo anche riassunto in grafica la vittoria larga del manchester contro luico materico madrid quella meno larga ma comunque convincente dell'accio team via real contro l'empoli entrambe le due squadre manchester e ragnatela e accio team via real saranno protagoniste lunedì sera lo sport city per quel che riguarda la finale di europa league se cui il secondo trofeo per importanza ma c'è da scommetterci nessuna delle due squadre avrà voglia di comunque di lasciarlo agli avversari e quindi sarà spettacolo garantito anche in questo caso però lunedì sera allo sport city non solo champions non solo europa league ma anche coppa forward il terzo trofeo il terzo ed ultimo trofeo di questa four world cup 2013 in settimana si è iniziato si è giocato di fatto le semifinali anche per quel che riguarda la coppa forward andiamo a vedere con l'aiuto della grafica quel che è successo registrando la vittoria del brescia che si qualifica quindi per la finalissima e in attesa anche in questo caso di sapere come andrà a finire la sfida di domani sera tra il milan e il bar city newcastle seconda semifinale chi vince ovviamente raggiunge lunedì sera nella finale della coppa forward proprio la compagine bresciana almeno resta a questo punto che ricordarvi che lunedì saremo comunque sul campo noi di terzo tempo in compagnia dei tecnici di fan del media service per raccontarvi queste finali champions europa league appunto e coppa forward e poi naturalmente vi do appuntamento con il prossimo format televisivo per rivederle qui insieme a voi insieme a noi naturalmente e salutarci per questa stagione calciottistica che chiude i battenti proprio con la coppa con la four world cup e che riaprirà a settembre prima con la prelega e poi naturalmente da ottobre fino a fine maggio con la lega calciotto 2013 2014 vi anticipo soltanto che stanno già cominciando le grandi manovre per quel che riguarda questo mercato o presunto tale del calciotto estivo ma ne parleremo più avanti ne parleremo soprattutto con l'inizio della prossima stagione io prima di salutarvi vi lascio però anzi nel salutarvi vi lascio alla gol parade anche questa settimana fan del media service ha raccolto per noi per voi i gol più belli di questa settimana intensissima di four world cup buona visione a tutti appuntamento alla settimana prossima grazie arrivederci che viene giudicato involontario da parte di tortoli attenzione limite dell'aria il numero 9 valdestro è un golazzo questo trova la tripletta tortoli tra le proteste dei calciatori del toro viola realizza un gol d'antologia che sicuramente troveremo nella gol parade della prossima della prossima trasmissione con maggiore verbo se vorrà raggiungere il gol del pareggio c'è secondo che va al cross direttamente dentro per la rovesciata di moschiano col fantastico di moschiano che trova il 2 a 2 si coordina sul cross di secondo e di sinistro con la girata al volo la mette all'angolino nulla da fare per basile pareggio straordinario del lecce parla ancora in zona pericolosa per perruzzini che fa un ottimo lavoro si allarga sulla destra perruzzini mette in mezzo questo pallone 4 a 2 tiro cross che finisce in rete e 4 a 2 villa real parte morezzi e la rete splendida del 5 a 0 gran gol di mauro morezzi pulizione stupenda 5 a 0 manchester petrucci cuda e morezzi petrucci e arriva anche il sesso gol altra bella azione e 6 a 0 che porta la firma di manuele petrucci petrucci cuda e più Grazie a tutti.